10, 5, 4, 3, 2, 1, vai! 80 a pista, destra 3 meno, per sinistra 3 meno, scende lunga, per destra 3 meno scivola, 3 meno scivola e subito sinistra 1, subito sinistra 1, per sinistra 3 meno, chiude 2, per destra 3 sporca sconnessa, sinistra 3, 30, attenzione sinistra 2, attenzione sinistra 2, per destra 2 sporca, 2 sporca, 50 sconnessi, attenzione dosso in sinistra 3 lunga lunga e al secchio chiude 2, lunga lunga, eccola, chiude 2 e subito tornante destro. Compagnia? Perfetto, vai! 30 a sconnessi, tornante sinistra, occhio qua, eh! 30, destra 4 meno, 20, sinistra 5, al blu stacca, destra 1, al blu stacca, destra 1. Scigane tiene sinistra e destra 2, vai! 100, destra 5, attenzione stacca, sinistra 2 e subito. Destra 3 più lunga, spira sinistra 4, scigane sinistra 2 per destra 2, 2 per destra 2. Accenno destra 50, sinistra 5 lunga, per destra 4 spiora, 4 spiora, 50, destra 3, per sinistra 4, più di 3, 20, destra 4 meno lunga, 4 meno lunga, 20, sinistra 5 lunga, per destra 4 meno lunga, scende, per destra 3 meno lunga, spiora, per sinistra 5, 30, destra 5 e molta attenzione stacca, scigane con ingresso a destra, 50, tieni sinistra, per destra 5 spiora, 50, alle frecce stacca, destra 3 meno lunga, 3 meno lunga, 50, sinistra 3 lunga lunga, sinistra 3 lunga lunga, per destra 3 spiora, per sinistra 4, al cartello stacca, inversione destra sale, 20, sinistra 3, per destra 3 spiora, per sinistra 3, attenzione sinistra 2 taglia, occhio qua che butta eh, 20, destra 2 taglia, perfetta, per sinistra 3 meno taglia, occhio qua eh, per destra 3, per sinistra 3 meno lunga sul dosso, lunga sul dosso, 20, destra 5, 20, destra 4 meno lunga, e al secondo ballo chiude 3, eccola, chiude 3, 20, sinistra 3 meno, 20, stai a destra, per sinistra 2 tossata, 100 a vista, schiera a sinistra 50, accenna destro, e stacca a sinistra 3, 50, destra 4 lunga, 50, sinistra 3 meno meno, stai a sinistra, e stacca a destra 2, ritardo a destra 3 meno lunga, occhio interno, 20, sinistra 4 meno lunga lunga, per destra 3 meno meno, stai a destra, e subito sinistra 3 scende, subito 3 scende, 100, stacca per sinistra 3 scende, 20, inversione a destra, buonissima, 20 sale, stai a destra, per sinistra 1 scende, 50, stacca per destra 2, occhio eh, indosso in sinistra 2, perfetta, 30, tini sinistra, e destra 3 scende, 20, destra 5, 100, al cartello, 20 stacca, e al palo a destra 3 meno meno, stacca, per sinistra 2 scende, attenzione destra 2, vai sporco, occhio qua eh, vai sporco, buonissima, 50, destra 4, per sinistra 4 scende, 20, destra 5, per sinistra 5, 50, destra 4, per sinistra 4 lunga, spiro a destra, e spiro a sinistra, e stacca a destra 2, per 100, accenno a sinistra, 50, perfetta, destra 5 lunga, per sinistra 5, 20, destra 5, molta attenzione, accenno a destra, sul tosso, 30 sconnessi, occhio, e attenzione al muro a destra, 2 scivola, stai largo, 20, accenno a destra, sul tosso, per sinistra 5 scende, 20, destra 4 meno, e sinistra 3, e subito a sinistra 2 taglia, 20, accenno a destra, 50, no a destra 3, occhio qua eh, no a destra 3, sinistra 4, 50 tossati, attenzione a destra 4, vai tutto a pieno, vai, buona, ok, 7,15 mi segna, 7,15 mi segna, Grazie a tutti.